Ciao a tutte ragazze, oggi vi voglio fare vedere come vi ho accennato nel video ieri una decorazione per le unghie semplicissime che praticamente anche una bambina delle elementari saprebbe fare probabilmente anche meglio di me, però era solo per darvi un'idea magari per San Valentino che è quella che state vedendo sulle mie mani, non è niente di che non mi è venuta come avrei voluto però praticamente non ho fatto delle prove, l'ho fatta in diretta con voi quindi metto di nuovo la parola tutorial tra virgolette perché non è il massimo ma sono sicura che se voi la fate fate una cosa decisamente migliore della mia quindi voglio andare a mostrarvi questa decorazione molto semplice con questi cuoricini realizzati a mano sulla mano destra sono ancora più brutti di quelli della sinistra perché non so usare la mano sinistra ma questo è il risultato finale, questi sono i prodotti che andiamo a utilizzare e quindi adesso partiamo con il tutorial allora partiamo prendendo lo spingicuticole io ho fatto di questo materiale qua che l'ho preso dai nail store se no ci sono anche questi qua, questi bastoncini con lo spingicuticole andiamo appunto a portare indietro le nostre cuticole io adesso l'ho già fatto sulle altre unghie anche poi prendo questo strumento che è una pietra pomice anche questa l'ho presa sui nail store e vado a grattare appunto sull'unghia oltre le... sull'unghia sempre nella zona cuticolare diciamo così, scusate il termine, non so se è corretto perché vado a eliminare ogni rimasuglio di quella pellicina bianca che si forma sopra le unghie e si va a fare anche su tutte le altre e io adesso l'ho già fatto quando si fa questi lavori qua non si soffia mai sulle unghie né si tocca con l'altro dito si usa o una spazzolina anche questa presa sui nail store oppure utilizzate un pad pulito per andare a rimuovere i pezzettini che sono rimasti con il buffer si va adesso ad opacizzare l'intera unghia perché in questo modo, scusate si va a togliere uno strato grasso che impedirebbe allo smalto di attaccarsi come si deve una volta opacizzata anche l'ultima unghia sempre con la nostra spazzolina andiamo a rimuovere l'eccesso della polverina a questo punto utilizziamo il primer in questo caso sempre di nail store io utilizzo quello senza acidi e andiamo a ripulire bene il pennello perché non ce ne vuole tanto aspettate che metta a fuoco e andiamo a stenderlo sulle nostre unghie così in modo abbastanza veloce e lo lasciamo asciugare all'aria per una trentina di secondi non di più una volta che il nostro primer si è asciugato andiamo a prendere il base top coat questo è doppio in questo caso utilizzo quello a bassa densità sempre della nail store e lo andiamo a stendere su tutte le nostre unghie uno strato sottile come se fosse uno smalto bisogna fare attenzione a non toccare le cuticole e andiamo anche a metterlo sulla punta e lo facciamo così per tutte le unghie se vi capita che lo smalto vi va a finire sulle cuticole quindi sulla pelle anche lo andate a ripulire subito prima di andare a metterlo in lampada una volta messo su tutte le unghie lo smalto base mettiamo in lampada per 120 secondi quando sono passati i 120 secondi andiamo a scegliere il colore io in questo caso uso il 171 sempre della inel store quest'altro che ho scritto argento in realtà è questo bianco non mi è stato inviato col numero quindi purtroppo non vi so dire che bianco sia in questo caso il bianco avrà bisogno di due passate quindi partiamo subito a mettere sul pollice e sull'anulare il nostro colore anche con lo smalto bisogna fare attenzione a non andare a toccare le cuticole altrimenti bisogna toglierlo subito prima di metterlo in lampada una volta fatte queste due dita mettiamo in lampada per 120 secondi una volta che abbiamo tolto dalla lampada e abbiamo fatto il secondo strato di bianco prendiamo l'altro colore e andiamo a stenderlo su tutte le altre unghie una volta applicato anche sulla nostra ultima unghia andiamo di nuovo a metterlo in forno per 120 secondi ovviamente ho detto forno ma volevo dire lampada di formazione professionale del fatto che uso il fornetto per le creazioni a questo punto come vedete il colore è già coprente allora cosa facciamo riprendiamo il nostro base top coat a bassa densità e lo andiamo a mettere solo sul nostro pollice e sul nostro anulare perché adesso dobbiamo andare a fare la decorazione e per farla bisogna prima sigillare la nostra unghia con appunto il top coat mi raccomando passatelo bene sulla punta e poi una volta che lo abbiamo steso tutto quanto andiamo di nuovo a metterlo in forno e ce l'ho questo forno in lampada per sempre i soliti 120 secondi mentre aspettiamo che la mano si indurisca quindi lo smalto all'interno della lampada ci procuriamo un contenitore per prendere per usare i colori acrilici colori acrilici in questo caso io utilizzo questo viola perlato e nero ci servirà il buffer perché dobbiamo andare a opacizzare l'unghia un pennellino questo qui si vede che è piatto obliqua e un pennellino con la punta fine e poi anche il dotter che è questo strumento con le due estremità a pallini così ci prepariamo tutto quanto per proseguire poi con il nostro decoro quando tiriamo fuori la mano prendiamo il nostro sgrassatore sempre quello di nail store almeno questo è quello che utilizzo io ne mettiamo un goccino sul pad e andiamo a sgrassare solo le unghie che abbiamo sigillato quindi pollice e anulare una volta sgrassato prendiamo il nostro buffer e andiamo ad opacizzare queste due unghie perché per fare il decoro con acrilico c'è bisogno che l'unghia sia opacizzata dopo aver opacizzato l'unghia la ripuliamo facciamo attenzione a non far cadere niente sulle altre unghie perché hanno quello strato di dispersione che appiccica e andiamo a decorare allora io non sono bravissima a decorare soprattutto con la sinistra vedete che il decoro mi è venuto uno schifo ma non so usare la mano sinistra andiamo semplicemente a creare un cuoricino sia sul nostro pollice che sul nostro annulare con il colore che più vogliamo in questo caso appunto io utilizzo questo viola metallizzato qui e poi andiamo a contornare con il nero se i colori acrilici sono troppo solidi mettete un goccino d'acqua e li andate leggermente a diluire una volta fatto il cuoricino con il pennellino fine prendiamo il nero e andiamo a contornare il nostro cuore una volta che abbiamo contornato i nostri due cuoricini ovviamente si lava il pennellino quello lo sapete dopo ogni colorazione si va a lavare prendiamo il nostro dotter dalla parte col pallino un po' più spesso e andiamo a realizzare queste palline anche se fuori fuoco che si vedono di qua quindi prendiamo il colore e partiamo dal centro e poi andiamo a fare i pallini una volta realizzati anche i pallini lasciamo che la pittura acrilica si asciughi una volta che la pittura acrilica si asciugata possiamo andare a sigillare il nostro lavoro in questo caso anziché usare il top coat che ho utilizzato prima vado ad utilizzare il quick finish sparkling sempre della e-nail store per andare a dargli questo effetto brillantinato inoltre questo prodotto qua non ha bisogno di essere sgrassato una volta che abbiamo finito dopo la lampada quindi vedete la finitura è questa e noi andiamo a metterlo su tutte le nostre unghie dopo averlo applicato sull'ultima unghia andiamo nuovamente a mettere in lampada per 120 secondi ricordatevi di sigillare sempre bene la punta dell'unghia una volta tirata fuori la mano dalla nostra lampada si può tranquillamente toccare perché come vi ho detto non c'è bisogno di sgrassare l'unghia a questo punto prendiamo un olio per cuticole io utilizzo sempre uno di nel store non so che profumo abbia perché l'ho preso un po' di tempo fa quindi ne mettiamo un goccino sopra le nostre cuticole e lo spalmiamo delicatamente se va a finire sopra l'unghia può darsi che la renda momentanamente opaca voi dopo con il pad o uno straccetto andate scusate fuori dalla visione dalla visuale andate a ripulirlo e ritorna completamente lucido quindi questo è poi il risultato finale e con questo passaggio noi abbiamo finito la nostra decorazione quindi spero vivamente che vi sia piaciuta è molto semplice è una cosa facilissima che può fare chiunque anche decisamente meglio di me e quindi spero comunque che vi piaccia e niente io vi saluto e ci vediamo poi al prossimo video tra due giorni ciao ciao